Scusi, puoi venire qui un secondo? No, venga qui, venga qui da noi Venga, 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 venga Cosa sta succedendo qui? Abbiamo la prima maglietta sarda con l'applicazione Illustracela, Nicola Guarda, abbiamo la prima Sardegna Umbrella per se piove Perché Umbrella è detto così perché è di Terralba questa applicazione Il calendario E poi... È di Villa Urbana l'applicazione Ma scusa, se schiacci cosa succede? Se schiacci parte un video Parti un video Allora non schiacciamo perché adesso siamo in compagnia di Nicola Cancedda E quindi ce lo dobbiamo coccolare per bene Ben trovato Nicola Grazie mille, grazie a tutti voi di questo spazio Ci vediamo domani Ci vediamo domani e Nicola non è solo Perché ha portato un amico in questo caso Nicola, presentaci il tuo amico Allora io lo porto in giro con me Perché il primo telefono... Io non ho lo smartphone normale Ma ha un telefonino vivente Lui fa le chiamate Chiama a casa Quando arriva il messaggio ti leggi i messaggi Giusto? Beh certo Ci mancherebbe, certo Se arriva il messaggio tipo È pronto a mangiare E lui dice... È pronto È così E uno si deve portare... Basta questi telefoni C'è una fotocamera qua Metti la fotocamera Fotocamera da 16 megapixel Sì, sì Fai foto? Foto click Fatta Ok È lui È lui È lui No no Simpaticissimo Ti chiami? Virgilio Salutiamo Virgilio Grazie mille Virgilio Ciao Arrivederci Hai visto? Questo spazio è aperto Nicola Bene Si è rovesciato il tutto Adesso sono io che faccio l'intervista a Roberto Sei emozionato per questo spazio alla fiera? È il primo anno che Sardinia Live è presente alla fiera? Molto emozionato devo dire la verità No, dico la verità io Allora avete rotto le scatole con questo Sardinia Live Perché io non posso aprire più Facebook E vedere tutte le notizie eccetera Tra l'altro Sai chi ce l'ha con te? Ma proprio non ti può più vedere Chi? Il mio edicolante Perché dice Tutti guardano la rassegna stampa di Roberto E nessuno compra più giornali Allora io vorrei smentire questa cosa qua I giornali Guardate la rassegna stampa Ma comprate anche i giornali Quello per forza Cosa potrei dire secondo te io? Un'affermazione simile Comunque le edicolanti di Villa Urmano Un giorno non fallo venire qui da noi Così leggiamo la rassegna insieme Va bene va bene Se non si rassegna prima lui Bene chiedimi qualcosa Fai un attimo il tuo mestiere Riprendo io il microfono Perché sei qua in visita alla fiera immagino? Allora ero qui per trovare un mio amico Lui povrino ha uno stand Dove chiede un po' di aiuti Anche perché è una persona molto bisognosa Lui si chiama Stefano Largio Il nostro Stefano Ma il nostro Stefano è qui per documentare Tutto ciò che accade alla fiera Perché lui col suo diario ogni giorno Ci informa Ci racconta dietro le quinte della fiera Io sono andato in biblioteca Da poco ho detto C'avete il diario di Anna Frank? No abbiamo quello di Stefano Largio Mi fa da ridere a dirlo Gli hai dato un input Adesso pronta a preparare il diario Di Stefano Largio Che tutti incontrano Troverete in edicola Anche dall'edicolante di Nicola La cance da Villa Urbana Sì probabilmente sì Ce l'avremo lì Comunque No complimenti per lo spazio È veramente simpatico Si nota rispetto agli altri Poi voglio fare i complimenti Perché mi avete fermato per l'intervista Con questa bella barba E davanti possiamo fare pubblicità Abbiamo C'è una scritta No peli superflui Che è bellissimo Quindi il prossimo spazio Adesso ti riprendiamo Seduto lì nel lettino Che ti Adesso vado lì a farmi fare la barba Perché tu sai Che esiste l'evoluzione Della luce pulsata No Non Non so Ci hanno spiegato che c'è L'evoluzione della luce pulsata Il laser Ho capito Io mi ero fermato a led Ma se c'è qualcosa altro Rispetto alle luce Non lo so Il neon Non lo so Però niente Fa molto callo qua Ve lo dico Fuori piove Purtroppo Per chi si sta mettendo in viaggio In questo momento Tanto non è in diretta Quindi Chi lo dice che non è in diretta È in diretta Che ore sono adesso Un'ora dopo Daccelo l'appuntamento Sono le 8 Sono le 8 Sono le 18 Sono le 18 E 10 minuti Comunque Nicola Grazie per essere stato qui È già finito così È già finito Perché noi abbiamo poco tempo Va bene Però ero emozionato La rifaremo questa intervista Hai visto l'intervista Pan-Bai prima? Sì l'ho vista L'ho vista Pan-Bai tra l'altro C'è il nome di uno Sembra uno che mette fuoco Pan-Bai così Potresti prenderlo nel tuo spettacolo Pan-Bai No no Mi ruba Mi ruba la scena Sicuramente Sai che è brutto Per un comico Che la scena Lì a rubi qualcun altro E niente Volevo ricordarvi Comunque di fianco Lo stand Di Stefano Largio Lasciate Portate 5 centesimi Lui accetta Poi lui mi piace proprio Queste monettine qua Queste bronzettine Che non si attaccano Alle calamite Perché lui dà fastidio a questo E per il Dico solo una cosa Povero te Perché lui scriverà oggi Stanotte si mette lì Davanti al computer Te ne darà Le camere Così potremmo far Sorridere davvero tutti Perfetto Mi piace questa promessa Che la prima copia La compri Roberto Tangiano Grazie a questa promessa Promesso La seconda Stefano Largio Perfetto Raccogli molte monettine Stefano Grazie Raccogli molte monettine Perché i cd di Nicola Vabbè non costano tanto No diciamolo Diciamolo Non costano tanto 10 euro 10 euro 10 euro E tante risate soprattutto Salutiamo tutti Ciao a tutti Sempre con Nicola Cancedda